Ok, vai Dio. Allora, è una cosa? Sì? Si mangia? No, no, no. Si può toccare? Sì. E lo usiamo quotidianamente? Cioè, ti si e chi no? Tipo, è grande o dipende da persona. Oh, è tipo, che non solo usiamo maschi femmini entrambi. Sono maschi. Dai. Quindi è un oggetto. Sì. E qualcosa che si usa in quelle... E c'è... E questo è padino. Sì.